Professore Alessi, lei è il presidente dell'archeoambiente di Gela e da anni conduce una battaglia per molti anni fa per la provincia, per l'istituzione della decima provincia, la provincia di Gela appunto. E oggi invece qual è il suo pensiero che esprime in una nota inviata alla stampa? Io a questo progetto dell'elevazione della nostra città ho sempre creduto, tanto è vero che sono rimasto l'unico di quel vecchio comitato costituito negli anni 90 che ha continuato questa battaglia assieme all'area per lo sviluppo dell'area gelese. Gela è evidentemente, pur essendo la sesta città della Sicilia, è stata penalizzata con l'appartenenza alla provincia di Caltanissetta e questo noi lo possiamo riscontrare in diversi settori, a cominciare dal settore sanitario dove il presidio ospedaliero di Gela è stato declassato, il numero di posti letto nell'area sud, compreso quindi Gela, è diminuito a favore dell'area posta a nord di Caltanissetta. Questa situazione cambierebbe con l'ingresso di Gela nell'area metropolitana di Catania? Senza dubbio perché evidentemente una volta che noi entriamo insieme a Niscemi e Piazza Ermerina, quindi stiamo parlando di una popolazione di 127 mila abitanti, è chiaro che Catania dovrà decentrare alcuni servizi in quest'area a sud. Sicuramente non ci sarà competizione né antagonismo tra Gela e Catania perché sono due realtà evidentemente molto differenti. Oltre alla sanità, quale altro settore secondo lei potrebbe migliorare? Il settore viario avrebbe dei riflessi positivi e grazie anche al fatto della presenza dell'aeroporto di Catania, i rapporti commerciali sono stati molto intensi, compreso i collegamenti attraverso gomma, che sono molto più accentuati in termini di corse e tranquillamente con Catania si potrebbe buttare le basi per la costruzione dell'autostrada Gela-Catania. Non è avvenuta con Caltanissetta che ancora dopo tanti anni aspettiamo la bretella di collegamento con Gela dello scorrimento veloce Caltanissetta, che io chiamerei Falconara anziché Caltanissetta Gela. La cittadinanza è tutta per l'abbandono di Caltanissetta e propende per l'adesione all'area metropolitana di Catania.